Anche questa volta la Fiera dell'Elettronica non ha deluso le aspettative. In migliaia la scorsa settimana hanno preso d'assalto i padiglioni di Bassano Expo. La Fiera dell'Elettronica ancora una volta ha portato a Bassano Expo tantissimi visitatori? Sì, è una fiera che viene sempre premiata, questa era la quinta edizione, abbiamo avuto tantissimi visitatori e ovviamente questa viene rifatta a febbraio. Ed ora, nemmeno il tempo di archiviare l'elettronica e in via Valsugana è già ora di aprire le porte ad uno dei tanti eventi dedicati al mondo della natura. Domani e domenica torna infatti a Animals. Una fiera che quest'anno ha moltissime novità. Tra queste novità ci sarà l'introduzione degli aracnidi per attirare il maggior numero di appassionati ma una particolare attenzione va anche alle famiglie. Infatti ci saranno due aree didattiche dedicate, una alle tartarughe, infatti questa associazione presenterà delle tartarughe molto particolari, molto rare, tra cui le più grandi al mondo e anche diciamo le più pericolose. Come giorni la scorsa edizione, anche quest'anno sarà presente in fiera un veterinario pronto a dispensare consigli a tutti i visitatori. Sarà presente il dottor Guerra che garantirà la salute degli animali presenti che appunto vengono esposti dagli espositori e soprattutto controllerà che la modalità di esposizione sia attinente alle norme previste dall'Ulss. E per l'occasione Balsano Expo cambia anche gli orari. Sì, questa settimana ricordo sabato domenica 10.18 stesso orario.